Sono qua con Ciccio, adesso partiamo, Cascina Amore, arrivando da Sarezzano verso Cerreto, si svolta qua e si prende questa strada inghiaiata. E adesso partiamo. Oh lì. No, ma questa va bene per tutti, eh. Anche da fare a piedi, la puoi fare a piedi scendendo e poi risali da fonti per un bel giro. Allora, adesso andiamo a pagare, poi quando ci sono le case, vado avanti io perché è la prima volta che sono venuto. Poi è bello perché sei in cresta. Ti vedi delle robe da un'altra colazione. Anche a livello fotografico. È sempre lì, quando ho detto, è sempre il viso. A livello fotografico. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.